Con l'autunno riprendono gli appuntamenti culturali proposti dalla Biblioteca di Follo. Cosa c'è in calendario? Sì, ora siamo ormai a fine settembre e iniziamo la presentazione di un libro ogni mese. Quest'anno apriamo con Laura Efrician che proprio venerdì alle ore 21 nella struttura polivalente di Pian di Follo presenterà il suo ultimo libro, Incontri. Laura Efrician è stata un'attrice, è stata una presentatrice oltre che moglie di Gianni Morandi ma ora è una bravissima scrittrice che abbiamo contattato e lei è stata ben contenta di venire a presentare questo suo ultimo libro. Di cosa tratta appunto questo libro, Incontri? Questo libro è legato diciamo alla sua vita passata dove lei racconterà dei suoi incontri con personaggi illustri, uomini e donne ora ricordo Lucio Dalla per esempio e racconta appunto di questi incontri e poi oltre a dire quello che c'è nel libro sicuramente da quanto ho capito avendoci parlato racconterà altri aneddoti e quindi insomma sarà molto interessante poterla seguire. In più lei ha delle scuole e raccoglie anche fondi per l'Africa perché appunto è impegnata molto nel sociale. In questo momento per esempio si trova a Torino e poi da Torino viene qui da noi perché proprio vuole promuovere anche questa ulteriore sua attività di volontariato.